Ciao amica, ciao amico mi chiamo Marcello, faccio questi video perché sono un appassionato di moto e se anche tu come me lo sei iscriviti al canale e attiva la campanella perché pubblico un video al giorno e ti ringrazio. Oggi ti parlo di Honda CRF 230L, prima però di partire volevo appunto salutare l'amico Warner che ha contribuito attivamente allo sviluppo del canale ed è un meccanico d'auto che ha restaurato un Malaguti MRX50 del 1989. La sua officina di riparazione auto si chiama WM Auto Service si trova in via San Michele 15 a Briccheragio Torino. Per un contatto immediato il numero di telefono è 338 22 39 795 poi lo trovi qui sotto in descrizione e c'è uno sconto per questo volevo dirtelo del 10% per chi si presenta o con il nome Cocco oppure con il nome del canale insomma si fa riconoscere quindi approfittate se siete in zona di questo sconto perché poi Warner è veramente bravo. Poi mi ha scritto ieri l'amico Franco che saluto che mi ha detto di avere come moto da Bosco e Riviera cito quello che ha scritto lui la Honda HM e CRF 230 Easy che mi sembra una moto molto interessante. Non ho trovato le caratteristiche specifiche della moto ho trovato invece quella della Honda CRF 230 L del 2009 ma penso che siano molto simili. La CRF 230 L è una moto quindi con caratteristiche tali da rendere adatta ad utilizzi di tipo diverso. Anzitutto si tratta di un mezzo economico veloce per spostarsi anche in città ma soprattutto permette di muoversi agilmente in percorsi di tipo fuoristradistico. Quindi una moto agile, leggera e adatta ad ogni occasione quindi mi piaceva appunto parlartene. Eccola qui e partiamo come sempre dal motore che è un monocilindico a 4 tempi, l'accendata di 223 cm3, la distribuzione monoalbero in testa ed è alimentato da un carburatore col diffusore da 30 mm. La potenza massima è 18,6 cavalli e 8.000 giri al minuto, mentre la coppia massima è 18,8 Nm 6.000 giri al minuto. Il telaio formato da acciaio naturalmente in tubi tondi ed alta resistenza, mentre la forcella telescopica la vediamo bene a perno avanzato a distelli da 37 mm della Showa, 37 minuti di diametro naturalmente alla corsa di 228 mm, la sella alta 810 mm da terra. Al posteriore siamo in presenza del forcellone oscillante con il monomotizzatore sempre della Showa a funzionamento progressivo con la corsa della ruota in questo caso di 152 mm. Per quanto riguarda l'impianto frenante abbiamo all'anteriore un disco, lo vediamo bene nell'immagine, eccolo qui, da 240 mm, mentre al posteriore sempre il disco ma da 220 mm. Le ruote raggi sono a 21 pollici e 18 al posteriore, l'anteriore naturalmente era 21, classiche ruote di dimensioni fuoristadistiche, la capacità del salbatoio di 8,6 litri, il peso secco di 113 kg. Se ti è piaciuto il video metti un like, se non ti è piaciuto metti dislike, ma iscriviti al canale e attiva la campanella prima grazie se non ti costa nulla, secondo faccio un video al giorno e sei sempre aggiornato aggiornato sui nuovi contenuti e ti ringrazio. Qui sotto i tuoi commenti sono sempre graditi. Ciao e buona serata.